In questo video ho bisogno di voi, siate sinceri, la vostra moto vi fa realmente divertire al 100%? Oppure, quando c'è da fare, qualche manovra strana inizia un po' di stress, paura di farla cadere, la sentiamo troppo pesante, non siamo proprio a nostro agio, indeterminate manovre, ci fa solo godere magari quando la situazione è sempre sotto controllo, il tempo è sereno, la strada la conosciamo, è facile. Ma in qualche occasione vi siete trovati in difficoltà? Dove voglio arrivare e ho bisogno di voi in questo video, aiutatemi nei commenti. Mi capita spesso, ogni tanto, che nei corsi, anzi prima del corso di perfezionamento, di guida sicura, mi vengono fatte alcune domande che mi fanno pensare, prima di conoscere realmente la persona che verrà a fare il corso, forse non è la moto più adatta per te. Magari è molto alta, magari ti piace fare determinate cose, ma la moto non si presta al 100%, oppure basta semplicemente un corso di perfezionamento e poi basta, la moto diventa un prolungamento del corpo. Tra i 14 e i 20 anni scegliamo la moto così, ci piace, magari vediamo determinate manovre, ci innamoriamo del genere di moto e deve essere quella per forza. Poi crescendo iniziamo a fare esperienze, viaggi, ci spostiamo, troviamo realmente la nostra dimensione, quello che realmente ci piace fare. Quindi rimaniamo su una tipologia di moto che quando la vediamo ci fa palpitare, però magari non ci fa divertire al 100%, oppure preferiamo cambiarla o aggiungerla nel nostro garage una moto che quando ci saliamo è la nostra moto, o magari mi basta un corso di perfezionamento per far diventare questa moto un prolungamento del corpo. Raggiungere il bel vedere che ho sempre desiderato, andarci ma senza pensare, oddio poi là sopra come torno indietro, oppure fare quelle strade ricche di tornanti, alcuni complicati, senza avere ogni volta lo stress, speriamo che mi vada bene, speriamo che davanti non si fermino e tutte quelle manovre. Adesso anzi ve ne faccio vedere qualcuna che spesso mi è stato chiesto Daniele sono in questa situazione, come faccio? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo. Andiamo. Andiamo a vedere. ecco queste sono alcune delle manovre che possiamo trovare per strada o nella situazione in cui ci troviamo con la moto sono alcune veramente possiamo trovare di tutto anzi forse avete visto nei vecchi video quante situazioni possiamo incontrare con la moto durante un viaggio o semplicemente abbiamo il garage in una posizione scomoda le soluzioni sono tre o ho dimestichezza sono nato proprio con la facilità della moto salgo su qualsiasi moto faccio qualsiasi manovra non ho problemi benissimo oppure faccio un corso con daniele di perfezionamento capisco la tecnica e da lì in poi mi si apre un mondo invece ogni volta che andrò a fare una tale manovra penserò oddio adesso mi sbilancio oddio dobbiamo fare quella strada no ma quella strada non mi piace facciamone un'altra ecco queste sono quelle tre situazioni che spesso ci troviamo a affrontare con la moto aiutatemi voi a capire è meglio la moto figa che ci piace o la moto che ci fa divertire oppure se la moto figa che ci piace è la moto che ci fa divertire allora siamo al top ragazzi da daniele è tutto questo è motocicletta team ciao e ci vediamo alla prossima ultimo esempio banale sto facendo un evento molti di voi l'avranno visto nei video e le pubblicità e le locandine e su tutti i social avventura e fagioli e mi chiedono a bellissimo raccontami un po come si svolge questo evento io gli racconto la strada che c'è da fare a no ma sai quel tipo di strada non mi piace preferisco non rischiare ecco ma allora con la moto ti diverti o esci solo se sei sicuro di non rischiare ciao ragazzi